Cresce il pessimismo fra le imprese piemontesi, in particolare resta debole l'attività di investimento e salgono lievemente le previsioni di ricorso alla cassa integrazione, con un indebolimento delle previsioni su livelli occupazionali. Mostrano invece una maggiore tenuta alle aspettative sull'export. Sono queste le indicazioni principali delle indagini sull'andamento della congiuntura in Piemonte diffuse da Union Camere Confindustria. Commentando i risultati, la presidente di Confindustria a Piemonte, Mariella Enoch, ha sottolineato come vengano confermate le crescenti preoccupazioni delle imprese per l'evoluzione del quadro economico. La nuova fase recessiva verso cui avviate l'economia italiana e l'indebolimento della domanda, dice Mariella Enoch, pongono alle nostre imprese nuovi problemi e difficoltà. E la presidente di Confindustria Piemonte punta il dito anche su un'ulteriore questione, quella dell'accesso al credito ancora troppo difficile e burocratizzato. La crescita, ha concluso Enoch, è un tema strategico che deve essere affrontato con determinazione individuando misure di sostegno alle attività produttive, soprattutto nei settori delle infrastrutture, dell'innovazione e del capitale umano. Sulla stessa linea anche il presidente di Union Camere Piemonte, Ferruccio Dardanello, dopo sette trimestri consecutivi di crescita, ha commentato il livello della produzione industriale piemontese tornato nuovamente sul terreno negativo, rendendo ancora più urgente l'azione delle Camere di Commercio e delle altre istituzioni territoriali a supporto della competitività del sistema imprenditoriale. È strategicamente importante, ha concluso Dardanello, conservare e sviluppare la vocazione industriale della nostra regione, che costituirà una preziosa risorsa che molti territori non hanno più per il rilancio futuro. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.